L'area archeologica di Pestum è stata protagonista di un incendio. Il fuoco ha interessato il Tempio di Nettuno e la Basilica. Sentiamo. Un incendio di vaste proporzioni ha rischiato di avvolgere e distruggere l'area archeologica di Pestum. A rischio in particolare il Tempio di Nettuno e la Basilica. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, coordinati da Serafino Palumbo, i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, al comando di Matteo Memoli. Si cerca di capire le cause e chi e perché ha piccato il fuoco. Non è esclusa infatti la matrice dolosa di un atto definito assurdo. Fortunatamente al momento pare che nessuna struttura nel reperto sia stato danneggiato dal fuoco.